E anche quando si pensa che quei provvedimenti sulla Previdenza colpiscano solo il lavoro pubblico, si fa una mistificazione che prova a nascondere quanto per tutti quei provvedimenti siano inaccettabili, quanto per tutti il semplice allungamento delle finestre, la loro diminuzione comporti lavorare un anno in più gratis e non è così nella realtà dei fatti in termini di divisione tra pubblico e privato perché l'attacco al lavoro pubblico che è pesantissima e inaccettabile blocco dei contratti, scatti, integrativi bloccati, riduzione e non conferma dei precari è di fatto l'attacco allo Stato, un esempio fra tutti, le ispezioni sul lavoro, altra grande piaga di questo paese, gli ispettori pubblici degli ispettorati provinciali del lavoro e delle asle non hanno neanche i mezzi per andare sui cantieri e nei cantieri si muore ancora e questo è inaccettabile per un paese civile e prova a dividere anche nord e sud, ma una divisione non solo che non c'è ma che invece accomuna nord e sud in un gigantesco e brogno, al sud sottraendo ancora risorse, al nord parlando di un federalismo che non c'è, perché lo dimostra che non c'è quel federalismo, la battaglia dei sindaci che l'altro ieri erano a piazza lavori, la battaglia dei presidenti e dei governatori delle regioni, perché mentre ai ministeri si opera per tagli lineari e inaccettabili, mentre si agisce sugli unici tagli veri, sui settori fondamentali per lo sviluppo del paese, primo fra tutti la cultura, la storia, le radici di un paese, i lavoratori della fedice, gli operatori del restauro che anche sono in questa piazza e che costituiscono insieme un patrimonio, soffrono di queste scelte, soffrono di questi tagli e mentre si taglia lì e non si taglia sui ministeri e sulla spesa produttiva, si taglia nei trasferimenti a comuni e regioni con un altro imbroglio, perché si costringono quei comuni e quelle regioni a mettere le mani in tasca agli italiani mentre si dice che non ci si mettono, si fa un omicidio su commissione, è un gigantesco imbroglio che dobbiamo smascherare, è una manovra furba, è una manovra iniqua, è iniqua perché c'è chi paga e chi no e la risposta ai stessi sociali, chi non paga, chi ha grossi patrimoni, chi ha le barche, le auto di lusso, i manager privati, chi specula sulle vendite finanziarie, chi si arricchisce con le speculazioni immobiliari, per loro nulla e la lotta all'evasione, altro risulto cardine della manovra, è un altro imbroglio, perché stima un'entrata di 16 miliardi che non ci sarà e che si tradurrà in altri tagli, perché è insufficiente di facciata, la tracciabilità c'era già, l'hanno tolta loro due anni fa, l'hanno introdotta adesso con una soglia più alta, ma soprattutto è di facciata, perché quella lotta non è accompagnata da azioni coerenti, perché la battaglia per l'evasione fiscale non è diversa dalla battaglia per la regolarità del lavoro, per la sicurezza e per la legalità, evasione fiscale, lavoro nero, illegalità, sono tutt'uno come dimostra tristemente l'edilizia, dove un mercato drogato da cricche e da ribassi sfacciati, dove la presenza del lavoro nero, dove la concentrazione della metà del totale dell'evasione IVA, dove l'infiltrazione mafiosa dimostra che quella battaglia si vince se si affronta complessivamente, ma su questo il governo agisce con i condoni mascherati, con gli scudi fiscali, con l'allentamento delle regole e dei controlli, alimentando complessivamente un clima di legalità che non fa il baglio con la coerenza necessaria per affrontare il buco di quei 300 miliardi di evasione che scorrono. E infine una manovra inefficace e depressiva, perché non investe, non investe sul futuro in termini di scuola, di ricerca, di innovazione, di formazione, di politiche industriali sosteribili, non investe sulle infrastrutture. È questa la vera anomalia della manovra italiana, insieme ad un'altra anomalia, quella del ruolo del sindacato. In tutta Italia, di fronte a quelle manovre, anzi a manovre nemmeno brutte quanto è brutta la nostra, tutto il sindacato si movilita. La nostra è una battaglia dura, difficile, ma giusta, giusta perché lì sta il futuro, difficile e dura perché è solitaria. E la domanda è sempre quella, ma dove sono gli altri? Le colpe altrui, la riflessione su di noi, non ci allontanano da un'evidenza, quella che De Vittorio sottolineava quando diceva che quali che siano le ragioni di ciascuno divisi siamo più debili. E allora, forti nella nostra ragione, con la schiena dritta, con lo sguardo lungo, non possiamo rassegnarci a queste condizioni e continueremo a lottare dopo gli scioperi che abbiamo fatto, con questo sciopero, con quello che faremo a settembre, continueremo a lottare per ricostruire condizioni di maggiore forza, per far avanzare di nuovo le condizioni del lavoro, con un unico vincolo, con un unico vincolo, quello di stare sempre dalla parte dei lavoratori, dove ci sono i lavoratori pensionati, giovani, dove attaccano i nostri diritti, dove si costruisce il futuro, lì deve esserci la CGL e lì, statemi certi, sarà la CGL. Grazie. Grazie a tutti.